Vorrei ringraziare tutti per la bella partecipazione che oggi ho preso, abbiamo ricevuto. Poi vorrei ricordare a tutti che il 25 sabato all'Oterza di Cone abbiamo il carnemale del pastore, la faccia da ballo, dove è ingresso libero, cerchiamo da fare meglio, cerchiamo da non far manca niente a nessuno, devo ringraziare tutti i cavalieri che con la loro partecipazione mi hanno fatto veramente un buon lavoro, grazie a tutti, grazie, devo ringraziare Luigi Ferra per il fidelino, insomma tutti coloro che hanno partecipato, e devo ringraziare anche il mio amico Vertucci che quest'anno mi sta tendo una mano insieme alla sua collega Ombretta, Adesso vi spiegherà lui Sì, solo 30 secondi, questa organizzazione è della Video Studio 2000 di Deruta con uno studio chiaramente pronto per qualsiasi evenienza, noi seguiamo questa manifestazione e vi ricordiamo, grazie veramente particolare all'invito di Cecilio e soprattutto tutto il Consiglio, ma dalla Badessa a Madre Caterina è stata un'ospitalità eccezionale per la città di Norcia, noi con questo vogliamo testimoniarvi le riprese di questa giornata, fin da questa mattina dalle ore 10, riprendiamo il tutto e il primo appuntamento, lo ripetiamo, è su Umbria TV nel canale 10 del digitale terrestre, si inizia martedì 21 alle ore 20 e 30, giovedì 23 alle ore 24 e domenica 26 alle ore 12, ripeto ancora una volta, Umbria TV, canale 10, chi ha Sky inserito può inserire il 500010 e chiaramente si vede lo stesso orario, ripeto martedì 21 ore 20 e 30, giovedì 23 ore 24, domenica 26 ore 12, l'organizzazione è dello studio Video Studio 2000 di Deruta, grazie per l'attenzione, un grazie particolare agli abitanti di Norcia, ci rivedremo sicuramente, la parola e chiedo un applauso al Consiglio e al nostro Cecilio perché veramente ce l'hanno messa tutta. Prima dell'asta vorrei ringraziare anche i pastori che hanno donato l'oregnella. Allora, Bazzana Sergio, Bonari Fernando, Giambattista Cesari, Salvatori... qui c'ha visto bella, Salvatori Dittanino, Branchimarte Maurizio, Peppi Giuseppe, Salvatori Celestino, Salvatori Stefano, Rossi Sergio, Federico Acciga e Ricciotti Antonio. Grazie ai pastori che ci hanno fatto questa ragazza. Poi abbiamo un maglialino, un maglialino che ci ha donato come ogni anno lo fa, Giuseppe Fausti. E adesso si apre l'asta di queste undici, di queste undici agnelle. Come potete vedere, se qualcuno gli interessa, tutte bestiolette doppie, giovani, molto giovani. Non ci sta una bestia fuori vostro, almeno nel settant'altro. Comunque parte l'asta, quaranta euro, undici capi, quaranta euro a capo. Chi vuole intervenire si faccia avanti. Dalla da fa' perché sono bestie belle per te. Quaranta euro a capo, undici capi. Quaranta cinque! Quarantuno! Quarantuno per spilare! Gli un po' buone puliberato! Pocci! Pocci Lorenzo! Quarantantue, Pocci Lorenzo! Quarantatré! Quarantatré! Quarantatré e così ricatoriendo gli un po' buone che stanno a me. Siamo ragazzi, fate le salotte su, sempre tu la metto, 44 per filare, 45 per ieri, punti Agnella, 45 euro Agnella, tutta buona pressione, da allevare, da allevamento, fatele sotto pastore 45 a capo, 11 capi, 46 rossi sabbio 47 il videologo più sempre ha detto, detto Giovetta 47, questo ricorda nello io, la soppella qualche cosa E' un po' più fuggiati 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 S'ha detto 47, 48 lo si fuggiati 48 euro, 49 pilati 49 pilati, sedia, e quanta? 50 e un pezzo di giometta 50 e un pezzo di gioco 50 euro, 50 euro, 50 euro 50 euro, 50 euro 50 euro, 50 euro 55, 56, 58 50 euro, 51 59, 59 60 per giometta 60 euro, 60 euro 60 euro, 60 euro 60 euro per giometta 60 euro per giometta 60 euro per gioco 62 32 e 1, 11 capi 63 63 per ammazzare il penulo 64 64 64 64 65 65 65 65 65 65 65 65 66 67 67 67 67 67 69 0 un po' con il terramietto un po' con il terramietto un po' con il terramietto 68 per gioveca 69 buon numero 69 e le taglia e basta fatto 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 69 e 1 69 e 2 rivelo 11 69 e la chiave 69 e 3 aggiudicate agli avvocati di Gaglia grazie 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 Grazie.